Non si può dire che il Presidente Renzi adesso non sappia qual è la realtà veneta? Beh sì, il punto di partenza è la crisi, 170.000 disoccupati, ma il vero riferimento sono le 600.000 imprese che creano occupazione, creano ricchezza, quella ricchezza che si traduce in 21 miliardi all'anno che paghiamo a Roma. Quindi a Renzi ho detto che quei 21 miliardi prima devono tornare a casa e dopodiché bisogna fare in modo che tutti vivano in maniera virtuosa come i veneti. Se si applicasse la virtuosità dei veneti, bisognerebbe licenziare mezzo milione di dipendenti pubblici in giro per l'Italia e costringere tutti a lavorare in maniera seria, il che vorrebbe dire 30 miliardi di risparmi da dedicare all'occupazione e alla ripresa dell'economia. E non è un caso che lei abbia posto a Renzi la questione del Sud, c'è Mezza Italia in default? Beh sì, io questo l'ho detto davanti a tutti gli imprenditori ed è stato molto ben gradito il riferimento. Noi abbiamo Mezza Italia che è tecnicamente fallita da libri in tribunale ed è bene che sappiamo che questa Mezza Italia deve essere riportata in bonus nell'alveo della sostenibilità ma bisogna dire a questi signori che non funziona più che si prema Caino e si punisce Abele. Qui Abele deve essere accarezzato e coccolato perché paga il conto per tutti e Caino deve essere messo giù a lavorare. Grande imputato in questi incontri il patto di stabilità, lei come la pensa? Penso che è un'autentica schifezza, è un'invenzione tutta italiana e la regione del Veneto ha 1 miliardo e 300 milioni di euro che sono soldi freschi nostri, dei Veneti, bloccati presso la tesoreria nazionale e poi lo Stato ci presta 1 miliardo e 4 per il pagadebiti quindi per pagare i debiti verso i fornitori e ce lo presta al 3,5%. Allora 1 miliardo e 3 nostro ce lo blocca a tasso zero e ci presta di fatto i nostri soldi 1 miliardo e 4 al 3,5%. Questo è uno Stato usuraio. Considera plausibile il ragionamento che comincia a girare di un blocco, sblocco anche parziale del patto di stabilità? Beh l'abbiamo sentita tante volte questa partita, io ormai guardo solo i fatti, cioè gli annunci non servono più quindi i fatti, i fatti concreti, del resto siamo Veneti.